Ciao Elia, è vero che sei molto impegnato, siamo nelle fasi finali, ci siamo. Allora teniamo a corto, che hair look hai fatto per questa sfilata? Abbiamo fatto una texture super 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 riccia, le piastre buttatele non servono più, questa è una rivoluzione vera e propria e per realizzare questa testa, oltre a farlo fisicamente ci abbiamo messo ritmo, colore e tanta passione, questo perché per realizzarlo abbiamo utilizzato due tecniche, abbiamo diviso la testa in due, la parte posteriore l'abbiamo realizzata con un ferro e davanti abbiamo utilizzato dei bigodini di plastica, gomma, perché ci dava una definizione e poi soprattutto perché avevamo la necessità di tutelare anche i capelli della modella che comunque alle volte sono molto molto lunghi, molto molto dritti, non potevamo abusarne, però allo stesso tempo avevamo bisogno del massimo del risultato. Grazie Elia, buon lavoro. Grazie, buon lavoro.